tu stavi incarnando una fase avanzata tu stavi incarnando la fase contemporanea degli scacchi mentre adesso stai incarnando Morphe probabilmente ti corrisponde bene come giochi ed è giusto che tu cerchi di giocare come giocava Morphe, è giustissimo questa cosa, soltanto che sono cambiate due cose che gli scacchi non sono più gli stessi quindi gli avversari di Morphe non sono i tuoi avversari probabilmente se tu giocassi con gli avversari di Morphe vinceresti tutte le partite eccoci Pier a volte abbiamo delle conversazioni fuori onda che è un peccato che abbiamo fuori onda e non l'ho registrata perché ci sono sempre cose interessanti ma vabbè come stai? bene bene sto fra uno stage e l'altro, sono stato a Bologna dove c'è un grande circolo di scacchi e mi hanno chiamato per allenare i giovani diciamo più promettenti e domani parto per la campagna toscana quindi sono molto contento dove faremo uno stage di quelli all'aria aperta con il verde eccetera con i ragazzi della regione toscana perché poi a fine mese ci sarà prima il grande stage con Ramesh il Guru indiano lì sarà un evento proprio epocale grosso in cui dovremo gestire tanti gruppi insomma tanti paesi anche diversi perché poi il bello degli scacchi è che mettono in contatto noi persone di paesi diversi e poi a fine mese proprio fine fine mese c'è il campionato giovanile che per chi fa il mio lavoro è l'evento un po' centrale che poi pure questo secondo me è un grande malinteso io lo dico sempre ai miei allievi o ai genitori non è che tutto inizia e finisce con un torneo perché si chiama campionato nazionale sì è bello è importante farlo eccetera però non è la cosa secondo me più importante non vedo l'ora io appunto gioco negli under 16 e quindi insomma spero veramente di ottenere buoni risultati al campionato giovanile quest'anno quest'anno sei ancora diciamo un po' acerbo si vede esatto sì sei il primo anno under 16 già l'anno prossimo sarai lo sai che sei un giovane giocatore ho due anni di vita meno di due anni di vita quindi sono veramente giovane senti Pier ho avuto una settimana che definirei di burnout questa è la mia settimana ho avuto una settimana dove un po' ho cambiato cioè ho fatto ho pensato bene e giocato molto male ho pensato bene perché mi sono guardato miliardi di video di morfi che ho trovato veramente strepitoso cioè non so ecco un pazzo furioso con idee che ogni volta che c'era la partita da vedere pensavo ok adesso cosa può muovere e nessuna delle mosse che avevo in testa era la mossa che poi veniva fatta quindi grandi attacchi grandi sacrifici così e questo mi ha dato grande stimolo mi ha anche peggiorato nel breve periodo perché ho cominciato a sacrificare e capito a cazzo ho detto ma vai vado sacrifico e vado attacco quindi ho avuto quel problema poi ho ripreso a giocare la Karokan con il nero come mi hai detto tu e questa cosa mi ha un po' risballato rispetto a prima avevo il mio schemino con la Scandinavia quindi non mi sono ancora riaggiustato e ho un problema sulla Karokan evidente di cui ti voglio parlare proprio psicologico e di posizione in cui mi trovo sempre in grande difficoltà e per cui insomma sono peggiorato di un centinaio di punti ma mi sento di sapere molto di più Monti Monti non sei peggiorato tu il tuo punteggio il mio punteggio il mio punteggio tu non sei il tuo punteggio capito no è vero guarda sono molto migliorato io questa settimana perché come dirmi ho visto cose diverse nella mia testa ecco rispetto a hai scoperto la grandezza dei classici come uno che dice si guarda ho letto Dante non mi sembra male è qualcosa non è male stiamo parlando ti stai conframpando con la poesia con i grandi 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 poeti degli scacchi grandi classici quindi questa è una cosa bellissima e se ti piace questa cosa e credo che già mi hai detto che ti sta piacendo è una delle cose più belle e più utili che ci siano perché avere cultura scacchistica capire chi era quel giocatore perché era così grande in quel momento per esempio un giorno ti faccio vedere una cosa bella un grafico animato in cui ogni campione è una linea nel grafico e praticamente ti mostra la distanza fra il migliore del suo tempo e gli altri giocatori del suo tempo dando un punteggio elo fittizio perché prima non esisteva il punteggio elo aspetta che lo recupero invece scusa mi chi era il mago di riga il mago di riga oggi ti ho preparato una partita del mago di riga il mago di riga era Mikhail Tal Mikhail Tal era il mio preferito Tal era innanzitutto dal punto di vista proprio scacchistico una mente secondo me prodigiosa perché aveva tutte le qualità e questo qui però puoi trovarne e questo non so se c'è esatto è proprio questo bravo vedi lì c'è Morphy giusto? sì Paul Morphy guarda come era lontano dagli altri ok poi cominciano a venire grandi diciamo campioni come per esempio il primo campione del mondo che è stato Stainis Blackburn era un inglese adesso chi è salito lì Stainis giusto? Stainis ma non sapevo che poi Paul Morphy giocava contro il padre lo zio cioè ho vari partiti che ho visto dove massacra il papà il fratello Alonso Morphy era una ricca famiglia di St. Louis mi pare se lo mando un po' avanti Capablanca eccolo qua con i suoi finali vedi come crescono adesso qui con Capablanca diventano Capablanca poi c'è Rubinstein Schlechter questi sono grandi giocatori adesso arriverà Alekin supera tutti quanti ma Tartacover quindi quando gioco la Tartacover variation e lui si avviene di Tartacover certo certo era fortissimo Tartacover si ok Lasker Lasker che è stato campione del mondo per più anni tutti quanti Marshall guarda Tartacover vedi che era forte Tartacover Nimsovic c'è Alekin adesso arriva Alekin e adesso vedrai Alekin fa una crescita mostruosa Alekin è stato uno adesso Alekin è Capablanca uno dei duelli più appassionanti perché stanno lì per un sacco di tempo e poi Ev poi nel frattempo Capablanca non c'è più Ev che è un po' un campione del mondo di passaggio olandese Botvinnik che è il grande campione sovietico sono tutti che stanno a quel livello Alekin subito dopo o durante ancora durante la seconda guerra mondiale muore purtroppo lascia il titolo di campione del mondo vacante e fanno un torneo in cui partecipano i più grandi e vince Botvinnik poi c'è Smyslov questi sono tutti i grandi campioni sovietici Botvinnik Smyslov poi vedrai Tal Petrosian è il loro livello per cui diciamo è molto più basso rispetto a Magnus Karsen a livello di punteggio però diciamo che il punteggio misura secondo me la distanza fra il primo o fra l'elite e gli altri semplicemente perché è chiaro che gli scacchi sono cambiati Karsen è molto più forte se giocassi un match Fischer Fischer adesso scava il solco più grande mai esistito nella storia degli scacchi Tal quella pulga che hai visto strana penso che sia Tal perché Tal guarda Fischer che fa ti rende conto la differenza fra lui e gli altri questo non si è mai visto nella storia degli scacchi mai 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 poi sparisce ciao e Tal e Fischer e Morphy sono gli stessi sono due meteore spaventose hanno fatto un percorso molto simile arrivati talmente in alto che si sono un po' bruciati con la loro grandezza e se ne sono andati Kasparov anche fa una e il secondo è Karpov la differenza è che Kasparov ha avuto Karpov come rivale e lui pure scava un solco molto grande Karpov è talmente forte vedi che a un certo punto lo risupera Karpov è veramente un mostro spaventoso Karpov giocava alla Karo che hanno visto alcune partite giocava alla Karo bravo Karpov giocava alla Karo Kramnik ho visto l'intervista a Kramnik l'altro giorno perché ha giocato il torneo dove ma te è stato così forte Kramnik certamente Big Blood pazzesco ha battuto Kasparov poi Kasparov ritrova anche lui si ritira se ne va per cui Kramnik c'è stato un sacco di tempo mi sono fatto una pessima immagine di Kramnik perché ho visto varie interviste osservazioni ogni due minuti dice che qualcuno bara che ha ovviamente anche ragione mi immagino che c'è un sacco di cheating però come dire dopo un po' dici mamma mia quanto ti lamenti è un po' quella sensazione lì però mi spero che fosse stato un grandissimo esattamente esattamente è stato un grandissimo quello che ha sconfitto Kasparov che ha portato una difesa di Berlino un modo di giocare nuovo Kramnik meraviglioso un giocatore assolutamente meraviglioso uno dei miei preferiti sono anch'io molto deluso da questa deriva un po' quasi caccia delle streche che non vedo degli inganni dappertutto mi è disperguito molto anch'io ho seguito un po' la vicenda con Alcantara il match che hanno fatto mi è un po' caduto il mito mi rimane ancora però mi è disperguito tenerlo alle prese con queste cose perché poi ho visto che hanno giocato questo match ho visto il resoconto di Gotham Chess che era tra i promotori dell'iniziativa dal commentatore e praticamente hanno giocato dei match lo segnalo per chi non avesse magari seguito la vicenda sia online avevano i due computer quindi giocavano sia online sia sulla scacchiera e Kramnik aveva detto che quest'altro giocatore che non è un carciofo non è Montemagnò è un grande maestro giovane fortissimo però aveva avuto insomma delle accuse di cheat quindi hanno fatto questi match diciamo molto equilibrati però poi c'è stata la contestazione il fatto che i computer non erano sincronizzati perché c'era l'aggiornamento di Windows quindi hanno avuto Bill e Casiri sta vicenda che ha aumentato ancora di più l'idea che ci fosse qualcosa di losco non lo so insomma però a volte cioè se io prendo Rafa Nadal prende e gioca non c'è cioè lui prende e massacrava tutti quando era un grande giocatore quando inizia a lamentarti in due minuti dicendo ma quella fatta è giustissima secondo me l'osservazione del o non ci deve essere imbroglio questo è chiaro però dopo un po' insomma allo spettatore lascia un po' di perplessità forse il continuo cercare sempre un po' complottista diventa l'approccio ecco questo è un po' il problema di percezione e non lo so insomma quindi questo è lo dico da profano che osserva queste queste vicende sì è così Cramnik è sempre stato diciamo un gigante buono in tutti i sensi negli scacchi con una grande aura positiva intorno a lui e tra l'altro è curioso perché lui stesso è stato coinvolto nel famoso toilet gate è stata una cosa incredibile lui giocava un match oltre a Topalo e andava spesso aveva un camerino in cui i giocatori andavano a riposarsi c'era anche il bagno eccetera e a certo punto Topalo dopo un inizio difficile del match il suo il suo secondo da naivo personaggio ha accusato Cramnik di imbrogliare e lì poi chiaramente ci sono stati degli scandali incredibili eccetera era falsissimo una cosa di una falsità una delle più grandi idiozie mai dette da un essere umano sulla faccia della terra però era molto curioso e se ho capito bene da quello che una delle cose che ha spiegato Cramnik che ha fatto anche molto ridere il mondo degli scacchi lui si nascondeva da sua moglie perché non doveva fumare o aveva detto che non aveva fumato e quindi andava al camerino perché era stressato qua la partita massima sigaretta e da quello che ho capito da quello questo è l'ultimo poi magari ci sono persone più informate in una storia però molto curioso questa cosa del toilet gate è stata divertentissima fantastico ma adesso c'è la sicurezza ai tuoi anni di scacchi cioè fanno dei controlli ad esempio i campionati italiani cioè che tipo di controlli si si come andare in aeroporto tu vai lì c'è il metal detector ti guardano le cose che c'hai non puoi portare nulla a me addirittura l'orologio diciamo meccanico te lo fanno togliere anche le penne ti forniscono la penna quella dell'organizzatore c'è delle misure strettissime controllano quindi anche se c'è un auricolare una roba o cose del genere no 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 controllano perfettamente nessuno può entrare in sala gioco ovviamente i telefonini li puoi lasciare in una cassetta di custodia o lo lasci in albergo non lo porti affatto con te se ti trovano con un dispositivo elettronico addosso hai ben assoluto si è squalificato come è giusto che sia anche perché se no la cosa su cui concordo quando sentivo parlare appunto delle accuse di cheating o sentendo l'intervista a Kramnik è giustamente se tu cominci a avere il dubbio è un po' come l'AI adesso ogni volta che faccio un video c'è sempre qualcuno che scrive ah ma questo l'hai fatto con l'AI e io dico no guarda sono io però ormai il dubbio c'è e quindi c'è questo dubbio che poi vale per tutti come quando io ti ho mandato il messaggio perso con mio figlio ma abbarato secondo te tu mi hai detto no sei proprio un carciofo tu e quindi per me ogni volta che perdo con qualcuno è perché è abbarato non posso aver perso io però insomma è senz'altro un tema molto importante volevo dirti una cosa prima di andare sulla schiacchiera pierre guardando i grandi giocatori giocare mi sono fatto questa teoria che è un danno nel breve periodo e un vantaggio nel lungo periodo e mi ha ricordato quando da ragazzino il mio allenatore ping pong mi cominciò a far guardare alcuni grandi giocatori c'era i tempi c'erano le videocassette no nel videoregistratore e una volta mi dà la videocassetta di questo genio il Mozart del ping pong era uno svedese il nome Waldner totalmente il dio del ping pong per 12 anni ha vinto contro tutti tutti i cinesi ma non solo vinceva era proprio poesia faceva cose che dicevi ma questo come se l'ha inventato faceva proprio dei colpi che si è inventato lui fuori dal comune e allora io vedendolo giocare subito ho iniziato a dire anch'io voglio fare quella roba quando non so ti arriva una palla alta faccia al posto di schiacciarla e fai un buco nel tavolo fai oh non so uno stop a tornare indietro difficoltà 5 miliardi e manchi la pallina e perdi il punto che avete un punto già vinto quindi cominci a fare delle cagate clamorose però ti si apre la testa nel lungo periodo inizi a avere un bagaglio di opzioni nella testa che prima non avevi e quindi ho provato un po' la stessa sensazione cioè inizio a fare l'ho detto anch'io 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 e poi faccio le stupidate clamorose ieri ho pensato sacrifico la regina così perché mi sembrava una buona idea ho detto no cagata è raramente una buona idea cioè deve essere esatto comunque questo è il paragone che mi è venuto in mente però al momento insomma la tua teoria è molto interessante non ci avevo mai pensato in effetti avevo sempre pensato che fosse soltanto benefico o guardare i grandi può essere che c'è questo primo momento di straniamento in cui dici voglio provare a imitarlo ma chiaramente per imitarlo faccio un sacco di errori però secondo me la cosa più importante è che rimane il punto d'arrivo cioè negli scacchi funziona molto non ho una visione idealista delle cose se io non capisco che cos'è giocare alla morfi se non ho in testa una partita alla morfi come potrò pensare caspita questa mossa sto giocando alla morfi capito questa fluidità del gioco questo anche queste combinazioni oggi noi ne vediamo una partita perché tu mi dicevi le vince tutte col bianco col nero che cosa cosa faceva un altro se vabbè che serva proprio avere un'immagine come se fosse proprio la posizione finale di una partita di giocare i morfi è questo un altro aspetto diciamo negativo nel breve periodo è a volte un senso di frustrazione ho visto un video di Magnus Karsen che risolve gli endgame come si dice in italiano endgame i finali i finali i finali e dopo un po' dici vabbè vaffanculo cioè io non vedo niente com'è che fai a vedere tutte queste cose non lo so e tu dici vabbè è come se vedi Federer a giocare a tennis sei tempice vabbè ti senti proprio un po' piccolo poi ho sentito Gotham Chess dire che a 48 anni il cervello smette di funzionare per gli scacchi ho detto vabbè ragazzi allora mi deprivo e finisce quindi questa è stata la mia settimana per darti la mia settimana in pillole sono successe un sacco di cose ti sei trattato bene in buona compagnia Magnus Karsen esatto so sprendo però spero che a 40 ma non ci credo perché ci sono stati dei campioni tipo corcinoi molto longevi ben oltre 48 anni non credo che sia davvero così allora Monti le tue partite le hai descritte bene io ne ho selezionata qualcuna però in effetti se vuole possiamo guardare molto velocemente è successo quello che dicevi tu cioè tu possiamo anche non guardare possiamo anche non guardarle purtroppo questa l'hai giurata benissimo questa è una partita per esempio che hai giocato molto molto bene anche riflettendoci io guardo sempre il tempo di riflessione sei tornato alla carocca nella domanda che volevo farti è o meglio il mio esperimento quasi sociale come ti senti a giocare una cosa che hai giocato a lungo che poi hai smesso e che riprendi a giocare essendo tu un giocatore diverso che sensazione ti ha dato no mi sento no mi sento bene da quel punto di vista cioè mi sento più consapevole ecco rispetto alle mosse al posto di andare in automatico ho notato due cose la prima cosa è che siccome io ho imparato ho fatto il corso della carocca cioè ho imparato alcune mosse una cosa che ho notato è che facilmente faccio una mossa in automatico se gioco la carocca quindi sono legato a quell'idea che dico in quella posizione mi sembra di ricordarmi che si muova così e quindi ho questa tendenza l'altro problema che ho notato è che quando si arriva in una posizione dove scende il cavallo in E5 lì iniziano i problemi cioè lì è una situazione che dico porca miseria c'è questo cavallo in E5 e mi trovo spesso a avere mentre invece nella scandinava non mi ritrovavo mai quella posizione lì e invece qua mi ritrovo sempre un po' infilato nel mio angolino arrocco corto e poi mi ritrovo col cavallo in E5 e iniziano a martellarmi e se no come affrontare il cavallo in E5 è chiaro che è un pezzo molesto forte è un classico degli scacchi mi è piaciuto come hai reagito per esempio a 3 hai capito che lui vuole fare D per C5 e poi sostenere il pedone con B4 e giustamente dici cambio subito e sviluppo la reazione classica e molto buona fine in G4 anche mi è piaciuta molto interessante questa mossa perché perdi un tempo però sei sicuro di eliminarli questo cavallo e praticamente rientriamo in questa posizione tipica allora un'altra cosa per principio quando ti fanno un'inchiodatura e tu puoi giocare la mossa A6 o H6 eventualmente senza che per l'avversario sia buona mangiare perché qui se mangia rimangi di cavallo e vabbè t'ha donato l'alfiere pazienza per principio si fa ok quando l'alfiere rimane qui facciamo finta che ci siano sequenze tattiche problemi eccetera tu avrai sempre l'ancora di salvataggio vicino mentre se stai in B5 non hai nessuno ancora di salvataggio può catturarti il cavallo quando vuole no ho capito l'alfiere in B5 facciamo finta che ci sono delle sequenze tattiche precise in cui a un certo punto per lui sarebbe importante fare alfiere per C6 lo può fare quando vuole perché in qualsiasi momento può fare alfiere per C6 ma se tu hai incluso A6 alfiere A4 le tue sequenze tattiche possono partire con B5 quindi l'alfiere non sarà più in grado di mangiarti il cavallo giusto hai la sicurezza di spezzare l'inchiotatura a piacimento quando vuoi la spezzi ok ok quindi è meglio mettere l'alfiere definato ok una una considerazione che a volte faccio in questa posizione che se mangio cioè mi piacerebbe arrivare in quella posizione che non devo mangiare con il pedone B perché poi mi ritrovo il mio pedoncino isolato sulla sua colonna A però in questa partita l'hai usato molto bene il pedone B non è drammatico anche il cavallo F5 è interessante come mossa perché se ti mangia e ti ritrovi col pedone B col pedone C hai il piano di fare successivamente Cicini sì questa è una delle posizioni che mi piace il più della Karokhan devo essere sincero mentre invece l'exchange e anche la tartacover non mi dispiace invece quella variazione di scambio la trovo molto più noiosa e mi ritrovo sempre con quel diavolo di cavallo non piace il cavallo quindi è stato molto bravo perché lui gioca a B4 appunto per congelare qui la struttura e fai A5 bravo questa è la classica si chiama spinta di rottura stai distruggendo la sua catena ottimo fatta A5 stai decisamente bene forse già meglio con questa posizione lui addirittura mangia ti permette di sviluppare la donna e qui bravo alfiere per F3 il resto alfiere B4 grande cioè è giocato molto bene è chiaro che alcune partite le ha giocate molto male devo dire molto molto altre partite si vede che le ha giocate e qui hai vinto un pedone e poi sei riuscito anche a realizzare abbastanza facilmente il cavallo per F3 non ti è sfuggito il dettaglio tattico che il cavallo è difeso dalla donna e chiaramente stai facendo una mega forchetta per cui alla fine della fiera ti mangerai il suo alfiere questa è una buona partita un altro dubbio che ho sempre nella nella carocan è quando uscire con la regina con la donna perché ci sono delle posizioni in cui forse contro la London quando immediatamente lui esce con l'alfiere in F4 subito a volte la mia tentazione è donna B3 e avere quella pressione e poi mi ritrovo sempre male appena esco con la donna e scusa in B6 mi ritrovo sempre sempre in questa variante vuoi dire sì ad esempio succede che magari alfiere F4 e io a volte ho questa tentazione di dire sai cosa no 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 ho capito quello che vuoi dire no diciamo la tua idea fondamentale contro qualsiasi schema deve essere quella di preparare l'arrocco allora noi vogliamo arroccare corto quindi la mossa chiave sarà fare E6 E6 la posso fare dopo aver sviluppato l'alfiere la difficoltà è la carocan è che purtroppo dobbiamo fare prima alfiere F5 e poi E6 poi eventualmente farai alfiere D6 e vedi un pochino se ti cambia questa è la tipica posizione in cui dovrai affrontare il cavallo in E6 esatto qua succede che io faccio alfiere D6 per cambiare benissimo e lui gioca cavallo E5 ok perfetto allora qui siamo stati un po' poco furbi il bianco gli conviene mettere l'alfiere qui così tu non sai dove sviluppare il tuo tu fai cavallo C6 C3 cavallo F6 adesso se non vuoi avere problemi appena ti fa cavallo F3 glielo cambi questo cavallo non ci sarà più il cavallo in E5 oppure se c'è deve fare comunque delle mosse un po' impacciate tipo cavallo BN2 per riprendere col cavallo e ti dà il tempo di riorganizzarti i tuoi pezzi già ti dico che la mossa chiave sarà cavallo D7 che è il pezzo in più che tu hai per lottare per questa casa è molto innaturale spostare il cavallo ma a un certo punto cavallo D7 ti permetterà di riguadagnare la casa ok quindi che succede in pratica devi vedere come se fossero dei personaggi che hanno un ruolo questo cavallo difende questa casa questo cavallo la sta attaccando quest'alfiere in F4 attaccherà questa casa quest'alfiere in D6 la difende l'alfiere in G4 è fondamentale perché se riesce a cambiarlo gli togli un cavallo ok quindi c'è un pezzo in meno che controlli il tuo pezzo extra sarà il cavallo F6 che al momento giusto si sposterà in D7 per proporre il campo ok ok però poi alla fine dei conti mi ritrovo sempre con una pressione lui arrocca una torre che su quella colonna ho sempre questa spada di Amocle questa è inevitabile perché in questa struttura succede questa è la struttura di Carlsbad colori invertiti in questa struttura succede che spesso il cavallo in E5 si trasforma in un pedone questa è la nostra famosa materializzazione della casa ti ricordi? sì quindi tu avrai sempre qualche problemino sul lato di Re e purtroppo è così questa è una cosa non evitabile a meno che non vuoi giocare delle varianti che se proprio a te non piace questa cosa allora contro la variante del cambio decidi di giocare con G6 alfiere G7 se a te davvero dà molto fastidio gestire questa situazione per esempio alfiere D3 puoi fare cavallo C6 C3 G6 quando ti metti con l'alfiere in G7 conservi molto spesso la possibilità di fare F6 e così proprio a diciamo radicalmente risolvi questo problema e limitandogli l'alfiere lui non ha più la possibilità di fare questi attacchi ok quindi fianchetto e sono anche più veloce a roccare immagino sì anche più veloce a roccare se te la vuoi giocare un pochino originale potresti persino provare a mettere il cavallo in H6 per fare F6 cioè uno schema del tipo cavallo H6 al rocco appena ti fa alfiere F4 o vuole farti donna D2 quindi fai F6 e se tutto ti va bene riesci a fare cavallo F7 e E5 se tutto ti dovesse andare bene cioè hai abbastanza pezzi per fare E5 un piano ambizioso puoi provare a farlo se ti dà fastidio la casa E5 diciamo lo strumento che abbiamo è il pedone F6 il pedone F6 è quello che può controllare proprio radicalmente la casa E5 è chiaro che se ci metti il cavallo in F6 sarà più difficile che però a quel punto apro drammaticamente il mio il mio re guarda a scacchi esistono i pezzi e i pedoni drammaticamente sì dal punto di vista dei pedoni l'hai aperto ma dal punto di vista dei pezzi c'hai questi pezzi qui che è come se facessero anche massa intorno a te ok sono posizioni giocabili diciamo non sono posizioni già perse o sbagliate sono posizioni più rischiose sicuramente più rischiose non giocabili va bene si può provare si può provare se ti dà fastidio i 5 si può provare questa cosa ma è in generale quando il cavallo scende in E5 l'idea di mangiarlo subito col mio cavallo che sta in C6 no perché se ti mangia di pedone in buone condizioni non mi piace tanto come cosa è molto è molto rischioso sempre in questi schemi no col cavallo in F6 diciamo qui la variante probabilmente più corretta è alfiere F4 e alfiere G4 l'avrai vista non nel corso esatto e qui si gioca donna B3 e devi scegliere come difenderti una cosa curiosa ho giocato per tantissimi anni col bianco questa variante e tra l'altro una mia partita contro un giocatore che è stato campione europeo non è avuto campione d'Europa grande maestro polacco macieia è stata scelta dall'autore di un bel libro che si chiama Sedlak un grande maestro credo serbo come modello per il gioco del bianco in questa posizione qui ci sto dicendo delle cose ma a me fondamentalmente piace giocare col bianco proprio perché c'è sempre il controllo della casa non è evitabile il nero non può in questo schema evitare che il bianco giochi cavallo il massimo che puoi fare è cambiare gli alfieri campo chiave che quando arriva il cavallo in E5 per esempio qui la mossa credo io col nero giocherei donna B6 no donna B6 non è tanto buona credo che perché donna B6 ti possono cambiare probabilmente farai fatica a gestire un cavallo che ti arriva in B5 questo è un po' fastidioso la mossa tradizionale è donna D7 cavallo D2 E6 cavallo F3 e qui alfiere D6 è una buona mossa che non conviene mangiare in D6 e mangiare in B7 mi pare che questa non sia granché alfiere D6 in questo caso ecco qui qui ho l'altra domanda che ti faccio è una volta che io perdo il pinnamento del cavallo e ritrovo un alfiere in G4 che sta lì ma non ha nessuna funzione e in più anche il problema che appena questo cavallo salta in E5 me lo ritrovo in mezzo l'alfiere esattamente esattamente o lo mangi subito appena arriva qui te lo mangi però entra l'altro cavallo io ho lo stesso abbiamo eliminato un cavallo pazienza questo per esempio è la tipica posizione in cui stai vincendo la battaglia per i 5 però in questo caso cavallo E5 e donna ci sente e c'è questa diagonale stai gestendo tu qui finché la tour ok qui hai vinto la battaglia per i 5 giusto perché non c'è la tour sulla colonna non ancora ancora a Rocco esatto quindi probabilmente su alfiere di sé ti dovrà mangiare a Rocco a Rocco e torre a E1 ed è una posizione tipica quando si sta preparando a saltare gli puoi giocare la mossa cavallo di sé questo ti volevo dire cavallo di sé intendevo questa cosa che non gioco mai questa non la gioco mai e in questo caso quindi in questo caso quando salta mangio quando salta mangi anche perché qui c'è un controllo in più ma anche se lui dovesse diciamo avere un controllo superiore rispetto a te tu qui farai il tuo gioco tradizionalmente il gioco del nero è fare B5 B4 non è questa posizione tu prepari il tuo gioco quando salta a quel punto te lo puoi anche mangiare ok mangia lui mangia adesso si ha materializzato la casa quindi ha prospettive d'attacco però ha soltanto i pezzi pesanti e un alfiere per attaccare quindi non è che sarà l'attacco più pericoloso nella storia oppure se proprio vuoi assolutamente impedire che il cavallo vada lì sempre devi ricorrere alla spinta F6 o spingere tu in E5 forse a te piacerebbe più spingere in E5 si vuoi fare torno e perdere tutto vuoi fare torno e 8 quando ti fa quando acquisisce il controllo della casa puoi spingere in E5 chiaramente quando giochi questo schema attenzione a eventuali trucchetti in H7 ma non funzionano finché c'è il cavallo in D7 forse a te piacerebbe più giocare in una posizione aperta di questo tipo per esempio si assolutamente le totri sulla colonna e te la giochi con donne a cavallo si e invece spesso mi ritrovo lì ho questo cavallo fermo lì e io ogni due minuti penso adesso dove mi muovo si diciamo forse che la mossa che ancora ti mancava è questa cavallo D7 ok abbiamo tante volte lasciato B7 in presa ma semplicemente perché fai torre B8 e poi te lo rimangi qui in B2 questo è un cambio favorevole al nero va bene e la mia logica in questa cioè in una posizione del genere dovrebbe essere quella perché la teoria è un attacco minoritario lato donna e creare anche una debolezza C3 ad esempio qui l'è già fatto il fatto di fare donna per B7 è seguita la torre per B2 è come se avessi già fatto B5 B4 B per C3 B per C3 ok giocando male il bianco ha accelerato il tuo attacco di minoranza però questo famoso attacco di minoranza di cui parlano tutti alla fine dei conti poi c'è dove è il mio attacco perché io non vedo nessun attacco qua vedo che sono lì minoranza serve a dare alle torri degli obiettivi d'attacco serve a far giocare le torri questo è lo scopo dell'attacco mi serve a due cose si chiama diminoranza perché il bianco ha in queste strutture come vedi ha tre pedoni sul lato di donna contro due quindi questa è la maggioranza e la maggioranza è pericolosa perché a un certo punto può pronunire un pedone passato se rimane bella sana se rimane bella con i pedoni diciamo sulle case di partenza quasi quando i pedoni avanzano male o quando con dei cambi li danneggi non producono più pedoni passati quindi stai valutando un suo asset molto importante ecco perché attacco di minoranza ma soprattutto serve ad aprire delle colonde che quando tu fai il bici facciamo finta che il bianco non fa nulla e il nero gioca un bel attacco di minoranza no il bianco li facciamo fare mosse del tutto casuali ci piazziamo qua ma neanche che vi metto direttamente a fare b4 b per c b per c torre b8 donna via qui c'è un pedone incidentalmente impresa ma facciamo finta che non sia impresa oppure giochiamo a 5 e torre c8 e qui vedi che le torri nere hanno una una colonna aperta e un'altra un gustosissimo pedone arretrato su colonna aperta che posso attaccare poi che ne so il gioco si continuerà a fare in qualche modo succederanno delle cose chiaramente qui e a un certo punto il tuo gioco sarà quello di attaccare i pedoni deboli dell'avversario ok e quindi lui si ritrova a dover proteggere questi si ritrova a dover proteggere per esempio spesso succede che si ritrova con una torre passiva contro una torre attiva a quel punto tu continuerai ad attaccare tutto quello che puoi attaccare puoi attaccare a 2 puoi attaccare c3 puoi attaccare quello che ti sembra più debole lo attacchi con i pezzi pesanti è un modo per creare obiettivi d'attacco colonne aperte o semiaperte per le due torre vedi io invece ho sempre pensato che l'attacco in minoranza fosse una cosa dove andavo e spaccavo via tu con i miei due pedoncini no 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 i pezzi che decideranno sono le torre ok questo that makes more sense ed è un gioco di pazienza perché il bianco l'ho fatto giocare malissimo il bianco ovviamente c'è la sua bella casa di 5 quindi tu stai attaccando di da lui sta attaccando dove c'è il cuore quindi è chiaro che è più facile giocare col bianco queste posizioni col nero devi sviluppare una serie di automatismi buoni come questa mossa cavallo d7 ok l'altro problema che ho vedi quanti provi coach quanti provi in che ho altro problema che ho è che se io inizio a sviluppare un attacco in minoranza ho sempre la sensazione che sto abbandonando il re e di là mi arrivano gli uni e c'è solo il re con i suoi tre pedoncini no c'è i suoi tre pedoncini ma c'è anche il cavallo in f6 l'importante per esempio è che non tenevai troppo a spasso con la donna capito perché anche nelle situazioni di attacco avere la donna presente nella zona critica cioè o è talmente attiva che costringe l'avversario a difendersi ma se tu vai a mangiarti un pedone periferico con la donna quasi sempre l'altro può lasciartelo e i tempi che perderai lui ti attacca capito ok una torre posso per un attimo scordinarle e andarmi a mangiare un pedone ancora riesco magari a tornare a gestirla a fare la donna no quindi comunque sappi che devi stare per tante mosse attento e non puoi avventurarti in cose troppo troppo rischiose poi la strategia giusta è il cambio capito in queste posizioni in cui l'avversario avrà gioco sul tuo re comincia a togliergli pezzi a prescindere uno due prova a cambiare un po' di cose tanto la posizione è abbastanza aperta prova a cambiare un po' di pezzi ovverrai che quando spariscono un po' di pezzi l'attacco è molto meno pericoloso giusto va bene allora ti faccio vedere io ti volevo fare vedere due cose ti volevo fare vedere morfida nero questa è molto famosa Schulten Murphy immaginare questa è una teoria bellissima la teoria dello sviluppo del pensiero scacchistico storico logico questa non mi appartiene questa cosa mi piacerebbe averla inventata ma non l'ho inventata questa io l'ho sentita dal grande maestro Lexio Ortega che è un grande maestro cubano italiano e con lui diciamo da tanti anni facciamo insieme dei progetti di insegnamento abbiamo tanti allievi lui è il direttore della scuola nazionale di scacchia della scuola federale e l'idea è quella che Morfi per esempio rappresenta lo scacchista di un anno capito tu in questo momento potresti essere Morfi lo sviluppo della storia degli scacchi lo sviluppo degli scacchi in quanto attività umana ha seguito un percorso dall'infanzia alla vecchiaia non so in che fase stiamo adesso dello sviluppo degli scacchi forse gli scacchi sono sempre giovani potremmo anche sviluppare questa teoria dicendo che un gioco o un'attività umana rimane sempre giovane come il frutto del vecchio melo sarà sempre un frutto giovane possiamo anche sviluppare questa teoria ma il senso per lo sviluppo del giocatore qual è? che tu all'inizio devi incarnare la fase che ti corrisponde ok? ecco perché io ti ho voluto decostruire come giocatore perché tu stavi incarnando una fase avanzata tu stavi incarnando la fase contemporanea degli scacchi capito? mentre adesso stai incarnando Morfi probabilmente ti corrisponde è giusto che tu cerchi di giocare come giocava Morfi è giustissimo questa cosa soltanto che sono cambiate due cose che gli scacchi non sono più gli stessi quindi gli avversari di Morfi non sono i tuoi avversari probabilmente se tu giocassi con gli avversari di Morfi vinceresti tutte le partite questo vorrei vederla dimostrata questa teoria ma facciamo perché erano forti pure loro anche se molte sono partite casuali partite giocate partite la parte gioca senza dei pezzi addirittura e ti sei visto un sacco di partite sì sì parte gioca senza torre senza cavallo così ci rimaneissimo e poi chiaramente sono cambiati gli avversari è cambiato anche il tempo per cui non si può pretendere di riprodurre esattamente lo stesso pensiero cioè proprio l'essere umano è cambiato nel frattempo quindi non è non è perfettamente questo esperimento non si può fare però è molto utile impadronirsi delle qualità della bravura dei maestri che in un momento hanno incarnato qualcosa noi c'è stata negli scacchi c'erano stai tante età l'età di Morse e l'età detta romantica il gioco romantico capito che è bellissimo ed erano anche molto forti poi il gioco romantico è stato messo in discussione dai classicisti diciamo dal primo campione del mondo che ha detto no no lasciamo stare tutte queste follie ci sono delle leggi c'è stata una specie di illuminismo diciamo gli scacchi non sono quello che pensate è poesia gli scacchi sono leggi rigorose poi ci sono stati ipermoderni che hanno detto no no ma stai scherzando magari non è come faceva Morfito non è neanche che ci sono soltanto queste leggi ci sono nuove leggi ipermoderne e poi via dicendo ci sono state tante c'è la scuola sovietica c'è stata tantissime cose fino agli scacchi dell'intelligenza artificiale capito una cosa molto e probabilmente negli ultimi anni gli scacchi stanno cambiando più di quanto sono cambiati non dico in tutta la loro storia ma in un pezzo grande della loro storia wow come giocava Morfito con il nero ecco innanzitutto gli giocavano quasi sempre il gambetto di re all'epoca c'erano due modi di giocare col bianco il gambetto di re e il gambetto Evans che è quello che gioco io tipo quello che giochi tu il gambetto Evans è questo qua ah ok che anche Morfito giocava sempre perché alfiere mangia in quel caso alfiere per b4 guadagni un tempo per fare per b4 esatto e poi spingi in d4 e poi spingi esatto quindi queste erano le aperture di moda all'epoca e modi per primo o fra i primi ha introdotto il contro gambetto dicono no tu mi sacrifici un pedone te ne do io ho uno a te e questo distruggeva completamente i pianini d'avversario e per d5 e 4 ti impedisco la mossa naturale di sviluppo del cavallo cavallo c3 poi a un certo punto bisognerà fare il d3 per togliersi di rosso questo pedone guarda la potenza di Morfi lo definisco sempre sviluppo o un guadagno di tempo quale pezzo devi sviluppare ma alfiere c4 si bravo questa è una mossa alla Morfi bravo sviluppo con guadagno di tempo un altro beh ha l'altro alfiere che pigno il cavallo giusto sviluppo con guadagno di tempo alfiere d2 guarda come gioca Morfi e3 ti do un secondo pedone ma ti voglio fare perdere tempo e apre la colonna sviluppo con guadagno di tempo sempre lui guadagna tempo torre 8 e gli avversari crollavano guarda ha dovuto perdere tempo vedi certo mangia non so quanto sia buona questa mossa è interessante ma gioca veloce gioca sempre veloce Morfi scacco tempo non puoi fare cavallo f3 perché ti mangio e ti distruggo completamente la posizione allora l'avversario dice ok gioco c4 ho tutti questi pedoni in più qui che mossa faresti qui la trovi anche tu occhi chiusi la mossa di Morfi dunque che mossa farei qua questa è una mossa che in una partita lampo faresti a occhi chiusi dunque le mie reminescenze della scandida variante portoghese io farei c6 per sviluppare il cavallo ma all'epoca erano cose incredibili sta sacrificando vedi pedoni e all'epoca addirittura ci si sentiva obbligati ad accettare i sacrifici dell'avversario se ti sacrificavano qualcosa e non l'accettavi eri un codardo eri una persona diciamo non elegante che non sapeva stare ahi scacchi romantici sto dicendo erano cose assolutamente incredibili c'è una storia famosa di un match di campionato del mondo fra Stainitz e non mi ricordo penso fosse Gunsberg un giocatore meno forte di lui Stainitz aveva scritto che il gambetto Evans si confutava con una certa variante il nero doveva giocare solo che la sua variante era bruttissima e perdente in ogni modo e perdeva tutte le partite e a un certo punto giocano questa partita il gambetto Evans e Stainitz prima di muovere al suo avversario dice maestro lei ritiene che io sia obbligato a giocare la variante che ho consigliato e quello si miserride e dice eh sì deve giocare il quadrare ok D per C6 cavallo per C6 qui il bianco giocare F1 che non è neanche insensata come mossa perché vorrebbe finalmente fare cavallo F3 però Morphy usa la sua tecnica preferita che è quella della diciamo semplificazione dei pezzi sviluppati dell'avversario con i suoi pezzi per avere sempre più vantaggio di sviluppo quindi torre per E2 wow cavallo però vedi questo è quello che anch'io mi sono messo a fare questa settimana dico sacrifico la torre però qua ho perso una torre sì però Morphy vedi che lo fa in una situazione in cui ha sviluppato tutti i pezzi e ha arroccato nelle tue partite tu l'hai fatto proprio selvaggiamente all'inizio esatto ok infatti la cosa che impressiona di Morphy è la maturità posizionale il fatto che capiva gli scacchi come un maestro moderno giocava bene Morphy poi era anche un genio delle combinazioni del calcolo eccetera ma giocava proprio bene come impostazioni torre per E2 cavallo per E2 cavallo di 4 adesso il bianco perde materiale sposta la donna perché sennò perde pure la donna e poi i maestri dell'epoca erano straordinariamente forti nel gioco concreto diciamo nel calcolo nelle combinazioni quindi per questo hanno prodotto degli autentici gioielli scacco il re deve andare giù perché altrimenti se vai in G3 ci sarà matto ancora più velocemente immagino si c'è matto in due mostre non ho con cavallo F5 scacco devi andare per forza qui e ti posso fare un bellissimo matto di cavallo sono belle le partite di questi giocatori perché si scoprono tanti temi di matto tante idee assolutamente fantastiche re G1 e qua di nuovo scacco ecco anche queste le mosse che io non avrei mai immaginato si si poi guardando queste partite ci prendi gusto e impari anche i quadri di matto scacco scacco e qui abbandona sul re H4 ci possiamo divertire noi a trovare il matto ma lo posso fare in tanti modi qua ma potrei anche se io tolgo il cavallo ho un matto in G4 bravo bravo credo che la mossa posso anche mangiare H2 questo non lo so io andrei o qui o qui semplicemente però lui può fare torre G1 torre G1 ah giusto mi forse devo fare con guadagno di tempo può fare torre G1 o donna G1 ma forse cavallo E3 posso fare ah scusami ma scusami cavallo F2 cavallo F2 esatto cavallo F2 anche e poi matto in H3 c'è quasi c'è matto in 2 donna H3 scacco Regi 5 H6 matto di pedone giusto? ah giusto anche Regi 5 giusto matto di pedone vale più degli altri matti lo sai questo no ha una legge 1,3 punti anziché un punto veramente? no no non so vedi qua qualunque cosa mi dici ci credo è il matto più raro che ci sia è bellissimo il matto di pedone insomma che quando fai i problemi risolvi i problemi è sempre matto di pedone che a me non è mai successo in partita però esatto matto di pedone matto di cavallo mai successo esatto esatto hai visto come giocava col nero morfi un po' come anche giocava col bianco ma la mossa veramente impressionante in questa partita è la mossa E3 questa è una mossa che per l'epoca era proprio una cosa sconvolgente che ti dà un pedone centrale per aprire una colonna e guadagnare un tempo fondamentalmente un po' pochino quasi e invece vedi i pezzi neri sono tutti belli organizzati ha già arroccato e gli manca soltanto di sviluppare il cavallo quindi morfi aveva una visione di insieme del gioco tutti i pezzi insieme tutti i pezzi collegati gli avversari non si difendevano perfettamente però mentre oggi per esempio si difenderebbero molto meglio quindi giocare così insomma è rischioso no? però ti insegna questo senso dell'armonia dei pezzi fatto di farli giocare tutti insieme cosa che non stai riuscendo a fare col bianco perché troppo presto ti butti a capofitto sembri non morfi sembri gli avversari di morfi stai giocando stai giocando come i giocatori romantici dell'epoca che alla prima occasione di sacrificare sacrificavano sempre per spirito cavalleresco per dire beh posso sacrificare e sacrifico invece col bianco dovresti imparare la pazienza pensa di essere morfi e in più c'è il bianco pensa che bella cosa però molte partite di morfi lui parte subito cioè non è che sta lì a aspettare allora parte subito anche perché il fatto di partire subito per esempio c'è una partita delle tue che illustra questo tema quando partire illustra questo approccio che ho romantico agli scacchi al sacrificio sì quando parti subito devi partire per un motivo devi partire perché c'è stato un errore da parte dell'avversario allora per esempio a volte sei partito bene questa qui l'hai giocata anche molto bene giochi il nostro gambetto morra ritardato con c3 d per c3 al cavallo per c3 lui fa e5 un po' strana bravo alfiere c4 reazione giusta attacchi e io in questa posizione mi sento bellissimo cioè io qua sono pronto e penso qua gli faccio male se sbaglia gli faccio male sì allora lui qui fa un errore molto grave alfiere c7 errore grave ok e quindi tu lo punisci trovando la mossa giusta donna d5 donna d5 non è la mossa giusta in base ai principi degli scacchi in base ai principi degli scacchi la mossa giusta sarebbe al rock giusto però voglio dire ho pensato però lui ha sbagliato no no è giustissima è una mossa vincente è fatto bene devi fare così ma perché lui ha sbagliato cioè se lui avesse fatto cavallo f6 d6 facciamo film ok lui non ha fatto cavallo f6 perché ha avuto paura di cavallo g5 che è una mossa che non gioco quasi mai eh no è fastidiosa ma perché stanno giocando qui il nero sta giocando col pedoni d5 c'ha dei grossi problemi su f7 di qui il nero sta maluccio forse l'unica mossa per contenere un po' è giocare d6 però su cavallo g5 devi fare cavallo h6 che non è il massimo ma vabbè ok questa scusami questa qua l'ho vinta però sì sì questa l'hai vinta anche immediatamente hai fatto donna d5 ok no chiedo perché posso tranquillamente averla perdita questa l'hai giocata molto bene e l'hai anche calcolata molto bene perché qui hai fatto cavallo b5 ottima ottima per bloccare c7 cavallo b5 rispetto al livello dei tuoi avversari è una mossa molto molto più più alta del loro livello capito perché se li togli da casa c7 minacci matto qui sei stato molto bravo cavallo b5 hai preparato il matto è una mossa brillante una mossa che tu lascia lui deve cambiare le donne ti mangi la torre e poi quella torre in più diciamo questa volta non hai avuto problemi a realizzare il matto lui qui ha abbandonato perché non poteva fare non poteva fare tu basta che sposti la torre ti deve mangiare ma c'ha sempre sta torre in meno e non riuscirà in nessun modo a cavarsela qui hai anche un matto rapido fai alfiere b3 e già minacci torre c7 matto no non è matto perché aveva in i8 però è diciamo un modo molto molto sbrigativo di chiudere la faccenda e questa qua credo eccola qua eccola qua allora che succede cioè fondamentalmente all'inizio si seguono i principi lui fa b6 b6 è una mossa sbagliata perché perché apre una seconda strada all'alfiere e non fa nulla per sviluppare il lato di re dove dovrà roccare giusto quindi tu giustamente lo punisci giocando in maniera aggressiva alfiere c4 molto bene già qui avresti potuto fare d per c non so mai se mangiare o meno no ma qui è puramente concreto qui è puramente concreto perché quando fa b6 si apre questa autostrada quindi se ti mangia col pedone che poteva essere la sua idea perde la torre perde un pezzo almeno giusto questa mossa non è una mossa che rispetta i principi dell'apertura però però c'è un chiaro errore dici bravo è come se esistesse un sovra principio che dice prima ancora di parlare dei principi dell'apertura se c'è una mossa che tatticamente vince vale sempre il fatto che la tattica regna sovrana vale sempre il fatto che se sta mossa vince non mi interessa niente che è sbagliata ma sbagliata come idea però vince se mi regala una regina gli mangio la regina sto a sviluppare i pezzi se l'avversario commette un errore la punizione la farai così in maniera brutale ma devi percepire che ha commesso un errore mentre se si gioca normalmente non devi pensare queste mosse o non funzionano queste mosse lui qui fa cavallo f6 tu bravo d per c5 ottimo hai capito che lui nella sua posizione c'è qualcosa che non va ok bella mossa e5 fantastico qui potevi cioè e5 vince proprio la partita e5 lo lasci in una situazione disperata hai riconosciuto il tema no d per e alfiere per f7 e quindi lui qui è disperato non sa che fare dovrebbe spostare il cavallo ma insomma sarebbe una posizione molto difficile gioca cavallo g4 che è un altro errore e qua lo devi punire in questa posizione qui hai giocato e per d6 qua sempre alfiere d5 vincevi subito la partita e diciamo qui ti è mancata un po' forse l'idea di mangiarti questa torre perché non capita mai non mi capita mai che ci siano delle imprese così cioè almeno non lo vedo io come pattern è una delle debolezze dell'apertura quando c'è no o in generale si dice giusto per darti dei riferimenti quando si apre un fianchetto questo è un fianchetto no e il fianchetto rimane incustodito prima che si faccia alfiere b7 è un momento di fragilità della posizione quindi quando vedi un fianchetto indebolito pensa ma non è che mi posso impadronire io della diagonale prima che quello no che l'avversario riesca a impadronirse e qui lui gioca alfiere b7 tu fai giustamente alfiere per f7 scacco no questa in realtà qui hai attaccato correttamente sono altre le partite in cui ti sei buttato troppo troppo allo sbaraglio qui però è successa una cosa incredibile cioè tu hai fatto un bel lavoro a un certo punto hai fatto una combinazione corretta cioè hai notato che il cavallo qui è indifeso alfiere scacco in g5 col cavallo e ho mangiato esatto ottimo lui gioca alfiere d5 potrebbe anche essere una mossa ragionevole ecco qui per esempio sì questo ti volevo dire in una posizione del genere no in cui già è evidente che hai un grande vantaggio quindi o vedi che vinci subito oppure devi giocare mosse semplici cioè tu pure c'hai il real 100 devi sviluppare i pezzi e arroccare quindi cavallo c'è un 3 o arrocco non ha più senso hai ragione la mia testa non ha ha rimosso l'alfiere da f8 l'ho detto non esiste l'alfiere in f8 quindi vado a dare matto facile il g7 ok non l'ho visto proprio l'ha cancellato ha fatto remove e non ho visto la fiera ma c'è perché ti sei sentito troppo in vantaggio ho detto dominio totale però ecco un errore che faccio spesso allora allora questa è una cosa importante che mi hai detto se è successo questo qual è l'antitodo l'antitodo è fare double check cioè è stata una cosa che proprio si insegnava quando ero quando ero bambino io ti dicevano quando hai calcolato una variante se hai tempo a sufficienza la ricalco si capito e qua c'ho tutto il tempo del mondo cioè tu l'hai vista questa cosa perché tanto se il matto c'è davvero hai vinto no ci vuole che ti costa impiegare 10 secondi in più ma se per caso dici oh madonna monti che caspita stavi per fare mi devi provare questa sensazione di ritornare sui tuoi passi e dire mamma mia monti stavi per fare un errore clamoroso si ok ma devi essere proprio lucido e freddo cioè ti stacchi dalla posizione soprattutto quando vedi cose tipo matto vinco un pezzo vinco la partita cioè ti stacchi un attimo respirici ok fammi ricalcolare questa cosa e poi la gioco però mi porto a casa il fatto che quando magari anche ho una buona trovata iniziale a meno che abbia chiaramente evidente un matto che è ovvio prima arrocco sviluppo gli altri pezzi e poi ci ragiono si si evita di buttarti troppo troppo allo sbaraglio a meno cioè il fatto di buttarsi così allo sbaraglio ha due significati profondi o è una punizione perché l'avversario ha sbagliato lo stai punendo o come quando giochiamo le varianti in cui sacrifichiamo i pedoni è semplicemente una sfida all'avversario a essere più veloce ok però più veloce non che poi brutalmente l'attacchi più veloce a toccare e sviluppare i pezzi più veloce a diciamo soddisfare quello che è l'obiettivo dell'apertura cioè quello di sviluppare tutti quanti i pezzi come ha fatto Morphy nella partita che abbiamo visto giusto va bene ok farò tesoro e mi porto a casa quel concetto del cavallo quando scende il cavallo in e5 come contrastarlo puoi provare tutti i metodi quello col cavallo in d7 è più semplice quello con g6 però in f6 è decisamente più delicato allora prova anche perché a mio livello mangiano con l'alfiere nero il cavallo quando appena lo vedo lo metto in angolo uno lo mangia sempre non so perché ma fa paura il ritorno del cavallo piace così va bene senti Piero sei sempre strepitoso è stato super interessante ci aggiungiamo la prossima settimana va bene va bene un abbraccio ciao ciao un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio